Ti do il benvenuto in questo webinar introduttivo, un webinar gratuito dedicato a radicamento. La traccia audio che sentirai è estrapolata dal webinar in diretta, per cui perdonami se l'audio non è eccellente, ma è stato registrato direttamente da Skype e se ci saranno delle parti forse un pochino in eccesso, ma voglio lasciarti comunque questa possibilità di recuperare il webinar perché è stato davvero interessante, io amo fare queste cose, condividere con voi quello che mi appassiona e quello che per me funziona. Quindi ti lascio all'ascolto del webinar e se sarai interessato o interessata poi al percorso completo, alla fine del webinar, ma anche nella descrizione di questo video, troverai tutti i dettagli e tutti i link utili. Ti saluto e ti auguro buon ascolto. Sanare il rapporto con il nostro corpo significa sanare il nostro rapporto con la terra. Riconquistare il nostro terreno significa riconquistare la nostra vitalità e le fondamenta di tutto ciò che segue. Questa è una citazione meravigliosa che credo ci possa dare una buonissima introduzione di base a quello di cui parleremo stasera e che poi è la base del nostro corso di radicamento, di questa pratica importantissima, sia che tu segua un percorso spirituale della terra, un percorso spirituale verde, ma per qualsiasi altro percorso spirituale e non solo, anche per la tua vita quotidiana. Qui si evidenzia come il corpo e la terra siano connessi inevitabilmente. Questo è un collegamento che ti chiedo di tenere per te, per tutta la durata di questo webinar e oltre anche nei giorni a seguire. Ricorda, ricorda sempre che il nostro corpo è connesso con la terra. Fatto questo, fatto questo passaggio, sarà molto più semplice comprendere le potenzialità del radicamento e soprattutto quanto noi esseri moderni ne abbiamo bisogno. Prima di proseguire però c'è qualcosa che voglio dirti. Dopo è scontato che mi conosciate, in realtà non è così. C'è qualcuno che mi conosce magari dai social, c'è qualcuno che mi conosce perché abbiamo fatto percorsi insieme, ma è bene parlare di competenze. Secondo me quando si va a dare uno strumento alle persone, che sia appunto uno strumento di crescita personale, di crescita spirituale, un corso sulla magia, qualsiasi cosa uno offre all'altro, secondo me è importante sapere in che mani ci mettiamo. Allora, il mio percorso è fondamentalmente abbastanza naturale, nel senso che le cose si sono evolute per caso, se qualcuno crede al caso, quando io ho iniziato il mio percorso per diventare estetista. Pensate a che cosa vi sto raccontando. Questo accade quando io avevo 19 anni, perché appunto stavo cercando una via lavorativa. Mi ero già interessata un pochino di esoterismo, mi piaceva l'argomento, sono sempre stata interessata al folclore, quindi leggevo storie del folclore, storie sulle streghe, insomma diciamo che l'argomento mi è sempre interessato. Ma entrando nel percorso di estetista, io ho conosciuto un sant'uomo, che tutt'oggi io rifarò una statua, vorrei fargli una statua, perché mi ha introdotto alla Ayurveda. E la Ayurveda è proprio una pratica, per quanto mi riguarda, non solo appunto pratica quotidiana di benessere, ma anche una pratica spirituale, che mi ha fatto entrare proprio nel mondo della natura a 360 gradi, perché tutto quello che erano i miei rimedi, sia per la salute, sia per la bellezza, che per il benessere, erano proprio legati a tutto quello che si trova in natura, quindi a partire dalle tisane, le oli essenziali, le polveri, l'alimentazione, le spezie. Questa cosa mi ha profondamente legato alla terra, perché mi sono iniziata a chiedere, ma se tutto ciò che arriva dalla terra, fondamentalmente si parlava di vegetali, per quello che riguardava anche l'alimentazione, in quanto sono anche vegana, fa così bene al mio corpo, alla mia salute e al mio spirito, c'è per forza un collegamento tra madre terra e il mio corpo, e quindi il corpo di tutti. Finito questo percorso ayurvedico, che è durato anni, sono incappata nel percorso di operatrice olistica, dove ho sperimentato la bioenergetica, e guarda caso sono entrata a capofitto proprio in quella pratica che si chiama radicamento, che deriva dalla bioenergetica, che la bioenergetica, ci tengo a sottolineare, non si è inventata niente rispetto ad esempio alla pratica dello yoga, perché molte esercizi e molte pratiche sono legate alle asana yoga, quindi chi poi farà il corso, chi è interessato, scoprirà proprio queste pratiche rituali legate al corpo e appunto ai movimenti del corpo, e a me ha cambiato veramente la vita, da essere una persona completamente sradicata, persa nel suo casino mentale, sono diventata una persona più ordinata, più focalizzata, e questi sono solo i benefici superficiali, poi ci sono stati tutta una serie di benefici spirituali che spero stasera di riuscire a raccontarvi, ma di base posso dirvi che il mio rapporto con Madre Terra e con le creature di Madre Terra è cambiato tantissimo, quindi anche a livello empatico, proprio di entrare proprio in connessione con quelle che sono gli abitanti di tutta la natura, è stata un'esperienza che il radicamento mi ha permesso di fare e tuttora faccio, ecco grazie proprio a questa pratica che è quotidiana per me, mi sveglio la mattina e mi radico tutte le mattine, quando non lo faccio sento la differenza, e poi ne parliamo più avanti. Allora, questa sono io, insomma, quindi se poi avete bisogno di altre informazioni sarò ben felice di darvele, questa l'abbiamo letta, e andiamo subito al primo aspetto, ovvero abbiamo detto che il radicamento riguarda il corpo e riguarda Madre Terra, quindi è una pratica fisica, e l'ho scritto in maiuscolo perché spesso questa pratica di radicamento la troviamo associata a pratiche più etere e più sottili, come ad esempio la meditazione. Ne parliamo dopo di questa cosa, ma vi dico già che non è il mio approccio, quindi se siete qui per delle pratiche meditative dove non viene coinvolto il corpo, vi consiglio di rimanere anche solo per curiosità, oppure se proprio è una pratica che non vi interessa, lasciate il webinar, perché per me non esiste la meditazione che ti radica. e poi arriviamo anche a spiegare perché. Ma di base, come vi dicevo in apertura, è importante tenere presente che il corpo è il centro della pratica di radicamento e ovviamente il corpo si collega anche alla Madre Terra, proprio come nella frase che ho lasciato in apertura. Allora, i benefici generali del radicamento li trovate esposti in questa slide e cerchiamo di vederli un pochino così, ecco, passando. Allora, la connessione con il corpo e con i suoi bisogni. Questo perché? Abbiamo detto che è una pratica fisica, quindi se è una pratica fisica riguarda il corpo e va a stimolare l'energia nel nostro corpo, inizieremo a sentire anche delle parti del nostro corpo che magari fino a questo momento abbiamo un po' ignorato, che inizieranno a chiederci delle cose. Quindi potrebbe essere che ci riappropriamo, ad esempio, del senso di fame, della sensazione di bisogno di dormire, piuttosto che di riposare, piuttosto che di fermarsi quei famosi cinque minuti per noi e di pretendere che questo tempo ci venga riconosciuto da noi stessi e noi stesse. Quindi non è qualcosa che noi chiediamo all'esterno, è proprio qualcosa che fa parte di qualcosa di interiore. Perché vedremo poi che pur essendo una pratica fisica molto legata al nostro corpo, in realtà l'energia che noi canalizziamo, se così vogliamo dire, dalla madre terra, va poi a spingere tutto il nostro sistema energetico, tutti i nostri centri, anche centri psicologici. Quindi va a fare veramente un lavoro molto intenso e molto sottile. Come vi dicevo prima, uno degli aspetti che io stessa ho sperimentato tantissimo è il focus, cioè da essere completamente disorganizzata a riuscire a portare a termine degli impegni, a ricordarmi le cose che dovevo fare, a metter su un'attività in proprio come questa, che mi richiede veramente tanto impegno per la pianificazione, per ricordarmi le cose. Insomma, io ad oggi riesco a fare tutto veramente e anche a trovare il tempo della pausa. Quindi nel mio tutto c'è anche la pausa, proprio perché ho iniziato a riconoscere i miei bisogni. Miglior salute, perché? Perché se il nostro corpo è nutrito e c'è uno scambio con questa energia pura di madre terra, io posso beneficiare di un'energia che va a, dico io sempre, a tappare delle falle. Quindi a nutrirci, a sostenerci, a darci quell'energia che quando manca è probabile che ci possiamo sentire più scarichi, magari ci arriva la febbrettina, piuttosto che il malanno di stagione, perché anche qui ci sarebbe da dire perché qualcuno si ammala, qualcuno no. È qualcosa di talmente soggettivo che non si può sondare in una serata. Ma a volte la febbre, come a volte si diceva anche prima, arriva perché c'è bisogno di riposo. Quindi è una forma del nostro corpo che ci dice, guarda, stai esagerando, io non ce la faccio più. Mettiti a letto, se no ti ci metto io con un altro sistema. In questo caso la salute migliora sotto tutti i punti di vista, anche proprio a livello energetico. Ci sentiamo molto più ricchi di energia per fare le cose e mettiamo l'energia nei posti giusti. Ecco, e questo è anche l'importante, perché avere energia e disperderla poi in attività che per noi non hanno alcun senso, insomma non è molto produttivo, non è molto utile e funzionale. Ma quando noi abbiamo un focus, abbiamo una direzione alla nostra vita, quindi è anche più facile a livello magico stabilire gli intenti, capire quali sono i nostri intenti in base alle nostre priorità, ai nostri valori, l'energia va lì, si dirige lì. Il sostentamento è un altro aspetto che è il nutrimento, quindi proprio quell'energia. Io quando faccio le sessioni con le persone nel corso di radicamento, spesso viene fuori questa necessità di tornare ad essere allattati. Quindi questo allattamento di madre terra, mi piace chiamarlo perché è proprio visualizzabile come una coccola. Anche se ci è mancato un nutrimento nel nostro passato, magari nella nostra giornata ci è capitato qualcosa e ci sentiamo più scariche, più scarichi, il radicamento appunto va a tappare quella mancanza. E quindi ci risentiamo di nuovo accolti e accolte, ma da chi? In primis da noi che ci concediamo quel tempo per noi, che non è tempo buttato via, anche perché è tempo dove noi facciamo qualcosa, quindi non siamo lì fermi ad aspettare una visualizzazione o un'illuminazione, ma ci muoviamo e muovendoci noi sentiamo che qualcosa dentro di noi cambia. Quindi è un tempo veramente funzionale al cambiamento e ci sentiamo nutriti. Questa capacità, come ho scritto dopo, di affrontare le sfide deriva direttamente da questo sostentamento. Perché se noi ci sentiamo perennemente scarichi, perennemente sfiduciati nella vita, pensiamo che ci vada sempre tutto storto, non riusciamo a concludere le cose, e il radicamento ci aiuta a fare tutto questo, ci sentiamo anche incapaci di affrontare le sfide, ci sentiamo deboli, ci sentiamo sempre, in un certo senso, dietro una soglia, aspettando o meglio sperando che non ci capiti niente, no? Per evitare di affrontare qualcosa di più grosso di noi. Il radicamento visualizzatelo proprio come un'energia che l'albero prende dalle sue radici con la quale si rinforza e rinforzando si riesce a tenere testa, in un certo senso, al vento forte, agli animali, ai piccoli animali che magari cercano di forare la corteccia piuttosto che farci dentro la loro casa, visualizzate proprio così. Cioè un'energia pura, forte, che va a ridonare quell'assetto energetico che noi abbiamo di base se non vivessimo in una società anche così frenetica, così sradicata, e di conseguenza ci sentiamo anche più fiduciosi nella vita. Non significa che il radicamento ci toglierà le sfide, ma che invece avremo la capacità di affrontarle. Quindi ci sentiremo più sicuri e anche, in un certo senso, più coraggiosi perché sapremo di poterla tentare quella strada lì che magari ci sfida ma proprio perché abbiamo la capacità di affrontare quella sfida. Lo sentiamo dentro proprio che è una forza rinnovata. E l'abbondanza, l'abbondanza, uno dei temi fondamentali che venivano trattati quando io studiavo appunto queste pratiche era proprio il rapporto con il denaro. In questo senso il radicamento non è che è un incantesimo, ma ci riporta nella condizione di sentirci meritevoli di ricevere. Proprio perché noi apriamo questo canale, questo canale che è il primo canale con la Terra, dopo lo vediamo meglio, ed è proprio il canale della sopravvivenza e del sostentamento. Quindi se io apro questo canale sarò anche in grado di percepire quel tipo di energia, di accoglierla quel tipo di energia, che è l'energia che, diciamo, a livello primitivo era quello che si dice il cibo, la sopravvivenza della specie, la sicurezza, quindi lo stare in sicurezza e non dover affrontare delle sfide appunto più grosse di noi, nella modernità significa riuscire a sopperire alle nostre esigenze e chiaramente non essendoci più il baratto o la caccia nel bosco, diciamo che va da sé che, diciamo, riusciamo a appunto a sopperire alle nostre esigenze attraverso il denaro. Quindi c'è una apertura verso questo canale, molto giudicato soprattutto nella spiritualità, che quindi ritrova in noi un posto, si apre questa possibilità di ricevere abbondanza, proprio perché sentiamo il pieno diritto di esserci, di vivere. La sfida del radicamento è arrivare a dire io esisto, io ci sono e ho il diritto, quindi proprio come un mantra io ho il diritto di esserci, questo è proprio il mantra del radicamento. Da qui si apre tutto, perché il diritto di esserci appunto ci fa dire ho il diritto di avere le mie esigenze appunto esaudite, il mio diritto di esserci mi impone di affrontare le sfide, perché io voglio continuare a esserci, mi impone di sentire quell'energia per poter usufruire di una migliore salute, di un miglior focus, di un miglior rapporto con il mio corpo. Quindi pensate alla potenza di questa pratica. Ora, vediamo anche avanti una cosa più specifica, diciamo, per chi partecipa a questo webinar, perché i benefici sono pratici, quotidiani, ma anche appunto più spirituali. Qui ovviamente quando si parla di streghe non vi conosco tutte quelle che si sono collegate, ma io intendo una persona che si affaccia ad un percorso, ad una spiritualità della natura. Quindi non si parla di streghe che fanno legamenti d'amore o fattucchiera, ma proprio qualcuno che segue un percorso spirituale e cerca questa connessione a Madre Terra. Allora, questo primo punto, appunto, la connessione a Madre Terra, è proprio la base, perché come in anticipo, in apertura, dicevamo che corpo e Madre Terra nel radicamento sono centrali. Quindi non si può, appunto, soprassedere a questa cosa, perché è così, è così, non c'è niente di... non sono slegate queste due cose. Quando io lavoro sul mio corpo attraverso il radicamento, sto automaticamente lavorando anche con Madre Terra, con il suo corpo. Quindi c'è una connessione molto profonda. Non so se vi è mai capitato di praticare il radicamento prima dei riti, ma anche in questo caso è una pratica che è utile per praticare i nostri rituali. Rituali anche qui si intende il momento di focalizzazione dove noi andiamo a dichiarare un focus. Ecco perché vi dico che il radicamento è vero che serve tantissimo per la vita quotidiana, ma anche nelle nostre pratiche spirituali ha una centralità assoluta. Ci aiuta tantissimo. Innanzitutto, appunto, il supporto di Name Generity è per questo che vi sto dicendo sul focus, sugli intenti e ci aiuta a portare avanti quello che in magia si chiama l'agire in accordo. Ovvero, dopo aver dichiarato l'intento, non è che noi ci mettiamo lì e aspettiamo che l'universo lo mandi. Questa è qualcosa di molto moderno, un'idea molto moderna. In realtà, in molte correnti spirituali c'è l'azione che segue il rito, che appunto è quell'azione in accordo. Cioè, se io chiedo abbondanza, ma mi metto in attesa dell'abbondanza connettendomi con quello che mi manca, osservando che mi manca quello, mi manca questo, mi manca l'altro, non sono sintonizzata sull'abbondanza, ma sulla mancanza. Quindi, per una sorta di appunto legge, se vogliamo così chiamarla, legge di attrazione, ma insomma prendetela un po' alla larga, ve la sto buttando lì così. Quando io guardo la mancanza, il mio essere che si tratti di mente, di emozioni, di corpo, è sintonizzato sulla mancanza. Come può raggiungermi l'abbondanza? Ecco che l'agire in accordo diventa fondamentale. Questo è un tema che in questo corso viene affrontato nel secondo webinar di gruppo, dove parliamo molto nello specifico del radicamento per le pratiche delle streghe, quindi, insomma, poi vi rimando a quello, ma vi basta sapere che è molto importante farlo. Sicuramente chi ha letto dei libri di magia, soprattutto i libri di Wicca, potrebbe aver trovato lì dentro la pratica del grounding. Il grounding è la pratica che viene descritta come quella cosa di chiudere gli occhi, visualizzare la nostra radice che entra nella terra e chiama energia. Questo è bellissimo, cioè è una pratica che probabilmente a livello emotivo ci connette, a livello anche psicologico, spirituale, ma a livello fisico noi rimaniamo comunque fermi e questo essere fermo non fa parte del radicamento. Il radicamento ha bisogno di movimento, le radici di un albero sembrano ferme, ma in realtà al suo interno c'è uno scambio continuo, c'è una presa e un rilascio, una presa e un rilascio, quindi c'è un cerchio di energia che continua a muoversi. Ecco, ne parliamo comunque meglio anche dopo quando poi vi parlo appunto della meditazione, ma ci tenevo a darvi questa chiave, si trova spesso, lo vedo questa meditazione di radicamento, che a livello appunto sottile ha un suo perché, ma a livello proprio pratico di radicamento fondamentalmente serve a poco. Invece noi vogliamo proprio andare a tirarla su questa energia e sentirla e vi garantisco che dopo due esercizi di radicamento la sentite perché è proprio una, è immediato, è come appunto attaccare una spina e vedere, vedersi accendere la televisione, è la stessa cosa. Allora, sviluppo istinto intuito, questo perché? Perché nel momento in cui io ho, come si diceva all'inizio, più consapevolezza del mio corpo, sento il mio corpo, imparo a riconoscere anche meglio le emozioni, le sensazioni, il dolore fisico, inizio a riconoscere la causa-effetto, quindi per quanto possa sembrare intuitivo, se io inizio a sentire il mio corpo che è stanco, che mi chiede di riposare, e inizio ad avere un po' di malanno, un po' di stanchezza, un po' di mal di testa, non è che ci vuole la maga circe per farci dire sto per ammalarmi se non mi riposo, oppure appunto sto per ammalarmi se appunto non mi metto in ascolto. Questo tipo di collegamento non è scontato, forse è scontato per le persone che sono qui stasera, ma vi assicuro che nel mondo moderno questo collegamento non è così palese, cioè il malessere, che sia il mal di testa, il raffreddore, la stanchezza cronica, l'insonnia, arriva e non ci si accorge che è arrivato, o quantomeno non ci si accorge come è arrivato, ma se appunto uno avesse notato dei piccoli segnali prima, si sarebbe accorto che forse il nostro corpo un avviso ce l'aveva già dato. Ecco, in questo caso, questo è uno stupidissimo esempio di come il radicamento aiuta a sviluppare questo istinto intuito molto primitivo, molto legato alla sopravvivenza, ma si raffina con la pratica e quindi andiamo a percepire anche su di noi delle sensazioni, quindi a sentire il perché c'è la paura, quindi quell'emozione che scatta in quel momento, come mai ho rabbia, come mai sento dentro di me la vergogna, quindi andiamo proprio a percepire a livello intuitivo tutte le nostre emozioni, ma anche le sensazioni, e per sensazioni intendo tutta la gamma delle sensazioni, quindi vi parlo anche della sensazione sottile di non essere soli, per esempio, e questo si collega tantissimo al rapporto che possiamo avere con l'energia della natura, quelli che vengono chiamati spiriti di natura, quindi a tutte quelle energie sottili che animano le piante, gli animali, le rocce, le acque. Quando si entra in questo percorso di radicamento, il nostro corpo diventa uno strumento potentissimo di conoscenza, sia fisica sia sottile, e è qui proprio che io ho sperimentato il potere assoluto del radicamento, oltre alla pratica fisica, ecco quindi, ecco che vi dicevo che radicarsi non è che limita l'esperienza spirituale, anzi, l'amplifica, perché vi faccio una domanda, come mi piacerebbe, poi se volete in chat, più tardi mi rispondiate. Come si fa a sentire, e immaginatevi la gamma di sensazioni che un essere umano può avere, se siamo sconnessi dal corpo? Ovvero, non è che per caso tutte le sensazioni passano dal corpo? Perché se io ho il senso del brivido di freddo, ce l'ho sulla pelle. Se io ho la sensazione di aver udito, quindi c'è per esempio la persona che sente a livello uditivo, magari un collegamento sottile, come faccio se io non sono connessa al mio corpo? Come faccio a sentire la sensazione di esserci, di essere presente, di essere connessa a madre terra, se non ho la capacità di riconoscere questa sensazione? Perché sono completamente sconnesso dal corpo. Cioè il mio corpo è come se fosse un apparato che mi porta in giro, ma di cui non mi occupo. Quindi perdo completamente la sua conoscenza, perdo completamente il riconoscere le sue facoltà anche, che sono estreme. Cioè pensate a cosa hanno fatto i nostri antenati con il corpo senza che nessuno dicesse, appunto senza che nessuno facesse corsi sulla spiritualità o altro. Attraverso il corpo conoscevano, attraverso l'istinto e l'intuito hanno creato quel sistema di guarigione, per esempio attraverso le piante. Non è che c'erano i libri sui quali studiare, quindi il corpo non serviva. Era proprio qualcosa che passava dal proprio corpo. Io ecco, questa è una domanda che pongo spesso, perché è basilare. Non si può sentire senza il corpo. Ecco che dobbiamo tornare al corpo, proprio per questo sviluppo di intuito e istinto, ma anche appunto per il punto successivo, che è la consapevolezza. Se io sono consapevole del mio corpo, ho la sensazione di essere connessa, riesco a percepirmi parte di Madre Terra, che è una delle cose che cerchiamo nel nostro percorso spirituale, sviluppo anche una consapevolezza sugli strumenti e sulle pratiche che faccio. Quindi toglierò di mezzo tutte quelle pratiche che non mi portano al mio scopo, quindi alla connessione con Madre Terra, a una pratica più consapevole, più radicata, più presente, e così gli strumenti. E vi faccio sempre l'esempio del mio panico da altare quando iniziai a studiare la wicca e c'era questo altare imbandito di candele, candele, candelabri, il piatto per il Dio, il piatto per la Dea, il simbolo per il Dio, il simbolo per la Dea. Ecco, quando siamo radicati e riusciamo a capire quali sono le nostre esigenze spirituali, è difficile poi andare dietro a quello che ci viene detto dal libro di turno, dal guru di turno. Iniziamo a sviluppare una consapevolezza e questa consapevolezza ci fa creare la nostra pratica con i nostri strumenti. Quindi diventa qualcosa che va dietro al senso, al nostro senso spirituale, il senso del sacro, mi piace chiamarlo, piuttosto che al dovere, al dogma. Quindi anche qui, come vi dicevo, come vedete, il radicamento è una pratica che non si limita al corpo, alla salute, al benessere, all'abbondanza, ma va proprio a lavorare su tutti i piani. Più pratica, a meno teoria, è appunto quello che ci spinge il radicamento a fare, ci spinge a fare esperienza, a uscire dalla nostra zona di comfort e a dire ok, questa esperienza me la concedo, piuttosto che immaginare come potrebbe andare, avere la paura, rimanere dietro questa barricata, mi permetto questa esperienza. E anche a livello spirituale è importante, perché quando ci permettiamo, a livello spirituale, ma anche a livello di crescita personale, di fare un passo in avanti, di tentare anche quella strada, è possibile che qualcosa cambi radicalmente, appunto radicalmente. Questo è uno dei punti, diciamo, chiave, ovvero la difficoltà nel radicarsi. Innanzitutto, è un po' un controsenso, perché vi ho detto prima che il radicamento sviluppa volontà, sviluppa focus, sviluppa una certa dose di capacità, anche organizzativa. Ma quando siamo radicati, quindi quando abbiamo intrapreso una pratica abbastanza costante, ma questo va da sé, non è che vi sto dicendo niente di sconvolgente, se fate yoga da una settimana, probabilmente non è che vedrete tutti gli effetti della pratica yoga in una settimana. Quando la pratica yoga inizia a diventare presente in voi, iniziate anche a interiorizzare la filosofia yoga, allora è lì che cambia qualcosa, e nel radicamento è uguale. Cioè, prendete il radicamento proprio come una pratica spirituale, non solo come una pratica olistica, diciamo, perché è un po' così che viene anche a volte identificata. È proprio una pratica spirituale, che può essere inserita proprio nella nostra routine spirituale, che poi con il radicamento, così vi faccio lo spoiler, diventa una pratica quotidiana, quindi non ci sarà più separazione tra spirito e materia, e di conseguenza voi non riuscirete più a capire qual è la cosa che fate per la spiritualità, o la cosa che fate per il quotidiano. Perché? Perché si svilupperà quel senso del sacro, quel senso del perché lo sto facendo, quella consapevolezza di cui si parla prima. Quindi il radicamento andrà ad unire tutto quello che siete e lo metterà tra virgolette in formato spirituale H24. Quindi inizierete a notare la meraviglia del vento, cosa che prima magari davate per scontata. Inizierete a notare nella persona che vi sta parlando quella sfumatura di dolore. Inizierete a notare dentro di voi, mentre siete nel traffico, quella nota di rabbia, perché magari siete in ritardo. Inizieranno a accadere delle cose che vi faranno alla fine giornata se fate un recap dire ok, io praticamente la mia crescita personale spirituale oggi l'ho fatta in ufficio. Perché? Perché c'ero, ero presente, ero dietro ai miei bisogni, ero focalizzata, ho focalizzato. Questo è magia, questa è magia pura. Ecco, io cerco di sdrammatizzare su questo termine magia perché è molto abusato e crea dei danni assurdi quando vi hanno usato male proprio perché secondo me la magia è proprio qui. Cioè, è ritornare dentro di noi alla consapevolezza di tutto ciò che siamo, di dove stiamo andando e del grande potenziale che abbiamo. E il radicamento fa tutto questo. Allora, quindi, fare gli esercizi richiede volontà. Sembra un controsenso, ma ve l'ho spiegato adesso. se io non mi ci metto un po', e quindi non attivo quel fuoco che per chi ha detto lavori è il terzo chakra, quindi quel punto proprio della volontà, che mi dice, ok, adesso alzati e radicati, alzati e radicati, ancora, un minuto in più, domani lo fai due minuti in più. Ci deve essere questo. Infatti, nel corso di radicamento c'è proprio un diario proprio per aiutare le persone a sentirsi un minimo obbligate, ecco, a fare questa cosa. All'inizio è così, ma siccome sarà molto bello quando sarete a fare gli esercizi, giorno dopo giorno non vi peserà più farli, perché sentirete il beneficio immediato, cioè non è una cosa che dopo come la dieta, cioè dopo un mese iniziate a vedere i risultati, no, i risultati immediati, quelli più superficiali, sono quelli più, appunto, più immediati, sono quelli di sensazione fisica, di grande energia, grande calore, voglia di fare, voglia di iniziare, magari appunto, a sperimentare una strada, cioè accadono un po' di cose, un po' di cambiamenti che dovete mettere in conto, chiaramente, quindi iniziando questo percorso ci mettiamo proprio in gioco, assolutamente. e infatti è proprio per questo che nel percorso, poi dopo ve lo spiego meglio, c'è anche una seduta con me in individuale proprio per andare a individuare quelle che possono essere le criticità emerse dai primi, diciamo, dai primi esercizi di radicamento, perché potrebbe essere una pratica che porta dei cambiamenti e magari c'è necessità di affrontarli in un certo modo, anche appunto, come vi dicevo prima, una maggior consapevolezza a livello emotivo porta a sbloccare anche tutte quelle stasi emotive magari che ci portiamo un pochino dietro, quindi possiamo fare proprio anche tutto un lavoro in questo senso che diventa molto molto profondo con il radicamento, perché il radicamento appunto ci sostiene, non ci sentiamo abbandonati a noi stessi, anzi, siamo sempre molto, ci sentiamo sempre molto coccolati, perché alla fine il radicamento è quella pratica più di tutte secondo me che ci fa percepire la connessione con il mondo, dove in mondo c'è tutto, c'è tutto ciò che vive, il nostro pianeta, i nostri coabitanti che siano animali, umani, piante, minerali, tutti quanti i regni che esistono, quindi è qualcosa di potentissimo secondo me, si arriva proprio a percepire questo senso di unione. La seconda difficoltà che ho riscontrato dalle persone che hanno fatto il corso è stare nel radicamento ci porta a stare nella realtà, questo sembra un beneficio e secondo me lo è sotto alcuni punti di vista, ma dall'altra parte c'è il problema che a volte la realtà non ci piace e quindi noi cosa facciamo? Evadiamo dalla realtà ci mettiamo lì e ci mettiamo a meditare o a visualizzare e molliamo lì quello che è la nostra realtà trascendiamo le nostre emozioni trascendiamo le nostre sensazioni trascendiamo i nostri sentimenti trascendiamo quello che è il momento presente per cercare una dimensione più comoda il problema è che questa cosa che ci porta per carità lontano dalla sofferenza quindi talvolta è anche necessario uscire da questa da questa presenza quando c'è un dolore molto forte è vero il dolore va affrontato però dobbiamo essere anche in grado di accarezzarlo un pochino non possiamo sempre essere così violenti quando stiamo male ma nel diciamo nella maggior parte dei casi questa pratica di evadere dalla realtà ci porta poi a un ipercontrollo della mente che ci separa poi ancora di più da quella che è la nostra realtà compresa che comprende i bisogni i nostri valori i nostri intenti i nostri desideri quindi è un cane che si morde la coda fondamentalmente nella dispensa l'ho accennato a questo quindi a questo aspetto di problema diciamo di evadere dalla realtà come un disagio che si crea in noi perché appunto io scelgo di non stare qui per stare meglio apparentemente poi però in realtà quando devo tornare alla realtà perché ragazzi miei come dico sempre siamo incarnati siamo qui abbiamo un corpo abbiamo un corpo che ci permette di sentire emozioni sensazioni percezioni e prima o poi arriva il conto prima o poi arriva appunto il carico emotivo e se non siamo presenti è una marea se invece siamo presenti questo carico emotivo potrebbe essere un ruscello di montagna qualcosa di più dolce qualcosa che possiamo o sentiamo di poter affrontare questa è la differenza fondamentale tra il radicamento e il non radicamento io tutti i miei percorsi di coaching quindi quelli che io ho fatto da allieva diciamo ma da cliente con la mia insegnante erano iniziavano con il radicamento proprio perché sapendo che in seduta potevano iniziare potevano uscire delle criticità delle emozioni forti dei ricordi uno sblocco di ricordi il radicamento mi sosteneva in questo io è stato grazie proprio al radicamento che sono riuscita anche a superare determinate consapevolezze che arrivavano come se appunto il radicamento andasse a smuovere delle parti che a un certo punto vengono su a galla come delle bolle d'olio nell'acqua e fino a quel momento erano sul fondo poi salgono e sei costretto a vederle la differenza è lì se sei radicato riesci a gestirle all'affrontarle anche a trasformarle in qualcosa di utile quando non sei radicato ti travolgono ti sommergono ecco io ho sperimentato questa cosa allora spiritualità e radicamento non vanno d'accordo ma ora insomma ve l'ho già detto questa è un po' una provocazione in realtà spiritualità e radicamento vanno molto d'accordo ne abbiamo parlato fino adesso proprio perché il radicamento è quella spina che noi attacchiamo per dare energia a tutto il nostro sistema quindi non solo a la parte che regola i nostri bisogni più fisici più materiali ma anche a tutti quei bisogni emotivi al bisogno se non sapete di cosa parlo vi consiglio di leggere che cosa sono i bisogni umani e c'è una ci sono insomma tantissimi tantissimi siti che ne parlano c'è la nello specifico della piramide di Maslow che è stata comunque sempre integrata rispetto all'evoluzione umana però vi consiglio di darci un'occhiata perché si vede proprio come il bisogno umano inizi con quei bisogni primari che sono appunto la sopravvivenza e prosegua poi fino a un bisogno di trascendenza quindi quando noi siamo collegati ai bisogni appunto il radicamento ci mette in contatto con i bisogni non si parla di bisogni solo fisici ma si parla di bisogni in generale a 360 gradi del nostro essere se siete qui immagino che abbiate familiarità col termine olismo olistico quindi io mi riferisco proprio a questo a livello di bisogni olistici quindi che riguardano tutto il nostro essere compreso la nostra parte spirituale allora un aspetto su questo quindi sulla spiritualità è anche allora non la voglio dire male però riguarda il denaro come abbiamo detto prima di solito i soldi nella materia si contrappongono e in questo senso dato che la materia è perennemente lontana dallo spirito anche il la spiritualità è completamente scollegata dal denaro quindi se siamo persone spirituali il denaro non dovrebbe riguardarci non dovremmo ambire a quello non dovrebbe essere parte della nostra della nostra vita a livello appunto di desiderio questa cosa è profondamente sradicante questa è un insegnamento della nostra società della nostra cultura meglio dire e di conseguenza siamo per carità vittime in ogni caso non voglio dire che ce la ce la siamo scelta però un pochino ogni tanto ci mettiamo del nostro quando per esempio diciamo alla persona magari che ne so che fa reiki ecco mettiamo una pratica così olistica non deve chiedere soldi allora siccome quando andiamo a prendere il pane il panettiero ci chiede i soldi l'operatore che fa reiki sta donando non solo il suo tempo sta donando anche una sua competenza esattamente come il medico che ha studiato e ha praticato ci insegna ci guarisce con i suoi insegnamenti o comunque con la sua conoscenza ok l'operatore reiki fa esattamente la stessa cosa allora perché c'è questo accanimento contro chi fa pratiche a pagamento perché siccome l'operatore reiki riguarda il settore spirituale e il settore spirituale è sradicato completamente dalla materia perché appunto ci sono queste pratiche spirituali che escludono completamente il corpo lo trascendono per arrivare a una illuminazione si è radicata questa credenza che la spiritualità debba essere esente dal denaro staccata perché se no viene sporcata viene abbassata come se nell'abbassare ci sia qualcosa di male l'abbassare ci porta alla terra non ce lo scortiamo quando noi ci radichiamo non stiamo andando in alto stiamo andando in basso è l'energia in noi che sale ma noi andiamo giù quindi rivalutiamo anche questo sopra sotto perché andare sopra non è sempre buono e andare sotto è sempre cattivo anzi ci sono dei momenti in cui andare giù e trovare la materia è qualcosa di veramente funzionale al nostro benessere come in questo caso e vi invito a riflettere su quello che vi sto dicendo sulla spiritualità finché la spiritualità sarà qualcosa di staccato dalla quotidianità sarà sempre qualcosa di staccato da tutto quello che la quotidianità riguarda comprende quindi anche il denaro qui non si parla di fare abusi o roba alla vanna marchi non sto parlando di quello quelli sono reati penali e va bene che vengano giudicati qui si parla di il giusto compenso il giusto scambio potrebbe essere anche un baratto perché il baratto per un trattamento reiki va bene e il denaro no non è comunque uno scambio perché il denaro no perché evidentemente anche a livello spirituale abbiamo dei pregiudizi sul denaro ci arrivano fondamentalmente ma li abbiamo li abbiamo presi in un certo senso abbiamo quest'idea che il denaro corrompa la sfera spirituale che la che non ci permetta di arrivare a quella trascendenza che poi mi piacerebbe sapere dove dobbiamo andare con questa trascendenza ma questo è la storia di ognuno di noi ecco non voglio non voglio entrare in questo ci tengo però tanto a questo argomento perché vedo spesso anche sotto i commenti di persone che magari leggono i tarocchi a pagamento che persone non contente di questo però in realtà quella persona sta se non altro donando il suo tempo poi è chiaro che se per una lettura vai a chiedere mille euro posso capire che ci sia un abuso ma questo è un altro discorso cioè qui si sta parlando di equilibri che vengono mantenuti e questo è qualcosa che ha molto a che fare con l'ecospiritualità di cui insomma mi piace occuparmi mi piace portarla nei percorsi perché l'ecospiritualità è proprio quella pratica dove la materia e lo spirito si incontrano e dove non c'è giudizio e separazione tra queste cose non c'è giudizio verso il corpo o verso lo spirito c'è complementarietà di queste cose e quindi andiamo anche lì a integrare quello che una volta era il sostentamento come si diceva prima no? che cos'è il sostentamento oggi oggi ci sostentiamo ok con il baratto ma prevalentemente con i soldi quindi faccio un lavoro dal quale mi arrivano dei soldi per poter vivere e sopravvivere prima si cacciava si raccoglieva è cambiata la modalità ma non è cambiato quindi è cambiato il mezzo è questo che è il denaro è un mezzo ma non è cambiato il perché il perché faccio questo è sempre il solito perché devo sopravvivere e anche vivere decentemente perché poi il radicamento una volta che si attiva non ci fa stare più nella condizione di sopravvivenza quindi diciamo accontentarci di quello che basta per mangiare e poco altro ma va a sbloccare anche tutti gli altri centri energetici quello del piacere per esempio quindi andrò a ricercare di nuovo il piacere della vita e quindi oltre a il pasto minimo sindacale andrò a cercare quella coccola in più che potrebbe essere una tavoletta di cioccolato mi sto facendo degli esempi veramente banali ma è per farvi capire come il radicamento piano piano va a donare forza ed energia appunto a tutti i nostri bisogni da quello più materiale della sopravvivenza a quello più alto più spirituale della trascendenza quindi spirito e materia in questa in questa pratica sono assolutamente unite e sono complementari perché l'energia sale e scende sale e scende continuamente è un è proprio come in un cerchio e in questo cerchio è compresa anche madre terra quindi pensate a che collegamento potente che andiamo a fare allora andiamo avanti ecco questa ora non si vede molto bene comunque meditazione e radicamento qui c'ho scritto non vanno d'accordo ma per davvero ecco è qui che volevo arrivare poi per insomma per per arrivare al punto della meditazione se no vi lascio col dubbio allora la meditazione è una pratica fondamentale importantissima meravigliosa quando abbiamo bisogno di lavorare con i centri energetici più alti quelli legati alla trascendenza quindi quando abbiamo bisogno di fare un lavoro abbastanza immediato con questi centri è importante meditare è importante meditare anche per aiutare un miglior ascolto di noi ma appunto se io non conosco le mie sensazioni le mie emozioni quando vado a meditare che cosa sto nutriendo la mia mente non il mio sistema energetico vado a meditare vado a dare energia a ciò che conosco ovvero tutte le mie funzioni psicologiche quindi il controllo piuttosto che il meccanismo che si ripete quindi la meditazione sviluppa energia ma quell'energia va dove io conosco quando invece andiamo a radicarci quell'energia che io immetto dato che appunto mi riapproprio poi di tutto quello che è il mio essere va dove deve andare è come una forma di autoguarigione fondamentalmente prendetela con un termine ovviamente non scientifico ma spirituale quindi una guarigione spirituale una guarigione sottile quindi la differenza è proprio qui se io se io sono sconnessa dal mio corpo perché medito avrò difficoltà a radicarmi quindi come faccio e lo potete fare come prova provate stasera prima di andare a letto vi mettete lì e vi mettete a meditare ad un certo punto con la consapevolezza e con l'attenzione vi renderete conto che il vostro corpo è silenzioso inizierete a non sentire più il corpo questo è l'effetto della meditazione che è proprio l'effetto della meditazione quindi non c'è niente di sbagliato questa cosa serve per esempio serve quando ci sono per esempio dei dolori fisici che magari appunto in un certo senso meditare ci aiuta a magari ci concentriamo sulla respirazione o su un punto in particolare all'interno magari in mezzo ai nostri occhi e questa pratica ci aiuta a sentire meno il dolore del corpo ma è una pratica che non è radicante quindi la meditazione va benissimo per tante cose quando però noi stiamo facendo radicamento non possiamo meditare perché la meditazione di radicamento per quanto ci faccia visualizzare che poi anche lì non sarebbe una meditazione ma una visualizzazione di radicamento ci fa visualizzare la radice ma io sto visualizzando che cos'è la visualizzazione è lo sviluppo l'utilizzo della vista interiore quindi io sto andando a utilizzare un senso sottile non un senso fisico vado ad utilizzare l'immaginazione fondamentalmente tutto molto bello perché in questo caso una meditazione guidata mi aiuta tantissimo a entrare in un tema ad entrare in una sensazione più sottile a una percezione e va benissimo quello che però vi ripeto non è radicamento quindi lì non ci si sta radicando stiamo andando a dare energia ad altre cose ma non ci stiamo radicando per radicarci ci vuole il corpo è una pratica fisica e si attiva il radicamento quindi l'energia di madre terra attraverso il movimento quindi attraverso proprio il movimento anche la respirazione per esempio una cosa che si fa durante il radicamento è sempre tenere gli occhi aperti cioè non si radica mai con gli occhi chiusi si radica con gli occhi aperti osservando l'ambiente intorno questo perché perché ci permette di essere presente nel qui ed ora questo è importantissimo quindi vorrei sottolinearlo 350.000 volte allora nella dispensa comunque trovate già degli esercizi da fare nella dispensa gratuita poi vabbè nella dispensa del corso c'è c'è molto altro quindi insomma troverete degli esercizi un pochino più specifici e gli altri esercizi poi ve li spiego io nel corso appunto ecco volevo concludere con la mia parte e poi vi lascio a Chiara che sarà ospite anche del corso nel senso che ci regalerà un bonus di cui vi parlerà lei allora cosa facciamo nel corso approfondiamo tutti i temi di cui abbiamo parlato ci sarà la prima parte il primo webinar di gruppo dove parleremo delle cose proprio pratiche del radicamento e di che cosa attiva in noi a livello quotidiano diciamo babbano ma poi in realtà non è babbano perché poi è appunto sempre legato a una pratica spirituale nella seconda nel secondo webinar invece facciamo la proprio la parte legata alla spiritualità e alla alle pratiche della strega verde quindi a tutte quelle pratiche di riconnessione alla natura vedremo come il radicamento agisce quindi andiamo ad approfondire tutto quello che abbiamo detto oggi nella seduta individuale vi darò gli esercizi quindi in base a voi ovviamente quindi gli esercizi sono tantissimi non li do in modo generalizzato proprio per evitare insomma se c'è qualcuno che soffre per esempio di mal di schiena o di ernia ci sono degli esercizi che non si possono fare e ci sono dei sostituti quindi mi piace essere più diciamo più utile e precisa possibile e appunto lavoriamo molto su la riunione tra la pratica spirituale e la vita quotidiana questo per me è molto importante perché uno dei disagi che emerge dai colloqui con voi quando facciamo le sedute individuali anche di altri percorsi è questa incapacità di sentire il proprio percorso di poterlo coltivare nel quotidiano e io trovo che sia una cosa molto dolorosa cioè io l'ho provata questa cosa mi ha provocato dolore non esagero a dirlo tanto è vero che è una cosa che non permetto più che accada di sentire la mia pratica sconnessa alla vita quotidiana di dovermi ritagliare il momento per fare una cosa mi sono promessa ho promesso a me stessa che non sarebbe più successo ed è stato grazie al radicamento che adesso mi viene naturale quindi sento di vivere una vita completamente sia spirituale sia pratica materiale ecco quindi e non trovo assolutamente nessun tipo di come dire come posso dire scontro tra le due cose ecco allora qui ci sono delle testimonianze ne ho messe pochine sono due slide e basta su le ragazze che hanno seguito il corso con me nella precedente stagione appunto ti focalizzi su aspetti della vita che non sei più abituato a conoscere a valorizzare ecco il focus anche di cui si parlava prima è un'esperienza che consiglierei soprattutto a tutti quelli che non hanno l'opportunità di stare molto in natura a chi fa fatica ad ascoltarsi ad ascoltare il proprio corpo quando faccio radicamento come sentire intorno a me il bosco ritrovo quella sensazione di essere lì abbracciato alla terra questo è un commento di una bellezza disarmante veramente perché dà proprio il senso del il senso del radicamento ecco quello che magari non vi accadrà la stessa cosa però mi piace portarvi questa questa testimonianza proprio perché vi fa capire quanto si entra si rientra nella natura ma il radicamento ha questa capacità di farci venire voglia di tornare in natura e questo secondo me è meraviglioso farci rivalutare il rapporto con gli animali con le piante quindi anche scegliere per esempio il cibo che noi mangiamo quindi sapere che il nostro corpo come vi dicevo all'inizio come è stato per me poi quando sono entrata nella Ayurveda il nostro corpo è formato da ciò che noi mangiamo perché mai dovrei introdurre delle tossine degli antibiotici magari che arrivano dalla carne piuttosto che una una verdura coltivata con 55 miliardi di agenti chimici sono domande queste che a un certo punto si sviluppano in noi magari non riusciamo subito a fare un cambiamento ma si sviluppa una consapevolezza tale che poi questa esigenza arriva e non ci pesa fare il cambiamento ve lo assicuro ve lo garantisco perché io sono stata per moltissimo tempo una ferocissima mangiacarne e non me ne vergogno perché fa parte della mia della mia esperienza di vita poi ho capito che quella cosa non la volevo più nel mio corpo e non c'è stata sofferenza nel toglierla magari non vi sto dicendo di fare questo passaggio ma probabilmente vi arriverà la sensazione magari di introdurre invece delle sostanze delle cose che magari finora non mangiate e sentite l'esigenza di rimangiarle perché vanno in accordo con i vostri valori e i vostri bisogni quindi è proprio un esercizio mi viene proprio da definirlo quasi mindfulness proprio di quella di quella connessione di quella consapevolezza che si sviluppa inevitabilmente qui c'è proprio una testimonianza rituale dopo l'ultimo rito che ho fatto dopo aver eseguito l'esercizio di radicamento mi è risultato molto più facile connettermi con l'energia della luna e con una mia antenata mi rendo conto di avere una maggior fiducia nelle forze del mondo e della vita che mi sostengono e nella certezza che la vita mi guiderà sul mio sentiero è un'esperienza che consiglierei a chiunque abbia perso la bussola a chi si sente bloccato a chi vive nella costante sensazione di vuoto o mancanza altri feedback li trovate sparsi nella pagina descrittiva del percorso vi lascerò tutti i link poi nella nella chat così anche eventualmente anche la dispensa gratuita ve la lascio lì per chi non ce l'ha allora il corso fino al 13 gennaio è scontato di 190 euro a 190 euro invece che 220 e iniziamo con ora non ricordo la prima data ma mi sembra sia il 21 forse l'ho messo dopo il 21 gennaio sarebbe il primo incontro di gruppo mentre poi l'incontro individuale ce lo gestiamo in base alle nostre alle nostre esigenze e sarà prenotabile comunque fino diciamo al 19 20 gennaio ecco chiaramente non più tardi perché il primo incontro è il 20 gennaio nel corso oltre ai due incontri di gruppo la dispensa la seduta individuale come vi dicevo prima c'è il bonus e il bonus è lei che ci darà un assaggino stasera di quello che fa e poi vi lasceremo lo spazio e le domande allora quello che mi ha scritto Chiara per creare questo slide è stato meraviglioso che ho riassunto un po' un po' così spero di averle dato abbastanza onore un'anima creativa coach di creatività interiore ci parlerà dei suoi valori e che cosa porta nel corso di radicamento ve lo lascio dire direttamente dalle sue parole sì basta che Chiara parli così io lascio la slide e te la tieni come come promemoria vai Chiara bella ciao ciao Lisa grazie per questo spazio io sono molto emozionata buonasera a tutte e sono proprio contenta di portare anche quello che è proprio la mia esperienza all'interno di questo percorso di Lisa proprio nel radicamento inizio appunto a darvi diciamo un accenno di presentazione c'è proprio scritto anima creativa come vedete la mia pagina e la mia attività si chiama chiara crea punto t perché perché io mi definisco appunto un'anima creativa perché unisco spiritualità alla mia creatività proprio manuale ritornando appunto a quello che ha detto Lisa che poi si va nel corpo e quindi anche il radicamento per me è una cosa che passa attraverso le mani sono appunto l'anima e lo spirito della mia attività quindi mi piace chiamarmi Chiara Crea ma anche Chiara Crea ti perché crearsi è proprio un atto secondo me anche d'amore verso noi stessi io personalmente porto la mia esperienza e appunto nel bonus che vi verrà dato spiegherò da dove sono partita perché è lì il pulcro da dove poi parte la mia esperienza ed è proprio quello che voglio portarvi mi definisco appunto anche coach di creatività interiore perché oltre a insegnare la manualità unisco anch'io dei percorsi di creatività appunto interiore che faccio anch'io attraverso radicamento e altri metodi ma qui per voi io porto soprattutto la mia manualità la mia creatività ed è qui che mi allaccio ai valori che giustamente ha scritto i valori di Chiara perché perché io credo fortemente ardentemente nel potere della manualità nel potere della creatività e soprattutto nel potere della scelta come avete sentito parlare stasera da Lisa con il radicamento che voi sperimenterete con lei o già avete sperimentato si arriva a un punto dove ci si rende conto anche del nostro potere e quindi avere cioè ricercare poi il nostro tempo per fare quello che ci piace quello che è l'esigenza per noi il nostro bisogno come ha detto Lisa alcune volte anche a me è stato proposto tantissime volte la meditazione ma io essendo già una che pensa tantissimo andare troppo nella testa mi fa svalvolare decisamente troppo io tutti i miei pensieri mi devo far passare attraverso le mani e come lo faccio? attraverso l'uncinetto vedete che anche qui alle mie spalle c'è un mandala all'uncinetto e il mio percorso il bonus che voglio portare a voi in questo percorso di Lisa è proprio spiegarvi la mia esperienza cosa mi ha portato a portare proprio l'esigenza che mi ha portato a trasmettere i pensieri alle mani e cosa ho creato e soprattutto perché perché quando si crea magari qualcuno di voi fanno già l'uncinetto lo creano in modo diciamo automatico passatemi il termine invece creare intenzionalmente alcuni oggetti o anche altre cose che vedrete nel bonus ci può permettere di proprio anche creare la trama di ciò che siamo creare proprio dai nostri fili una creazione che ci rappresenti e questo lo capirete meglio quando vedrete il bonus e questa cosa in questo appunto bonus vi spiegherò giusto anche il primo punto che si può imparare ecco all'uncinetto ma soprattutto vi darò una visione di quello che potrete fare mentre fate l'uncinetto perché come posso dire anche prima si parlava che il corpo non è separato dalla mente quindi anche come diceva prima Lisa quel momento anche per uscire un attimo dalla realtà perché ci sono realtà veramente pesanti per me è stato così è per questo che parlo dalla mia esperienza a me l'uncinetto ha permesso di fare una serie di cose per uscire dalla realtà avere una boccata di ossigeno avere quell'attimo di tranquillità ma soprattutto poi mi ha permesso e mi sta permettendo tuttora di esprimere esprimere l'anima mia creativa ma perché perché come diceva Lisa si arriva a un punto a deradicamento a dove dice ok io esisto quindi io mi merito di fare certe cose io voglio certe cose voglio il mio spazio per esprimermi e se qualcuno di voi si ritrova come me avere un'anima creativa quindi che gli piace disegnare che gli piace creare io mi esprimo attraverso l'uncinetto ed è questo che voglio portare in questo bonus dalla mia esperienza capire cosa si può intenzionalmente fare con i fili e con l'uncinetto soprattutto e poi darvi giusto quello spunto per partire per poter creare subito qualcosa qualcosa però che vi rappresenti non un qualcosa senza senso un qualcosa che rappresenti soprattutto una parte di voi questo ci tengo tantissimo poi ovviamente come si possono sviluppare altri percorsi perché poi vado anche più in profondità sia con la tecnica ecco che con altri metodi ovviamente però sono molto contenta di poter portare la mia esperienza e la mia creatività in questo percorso di radicamento perché per me è stato fondamentale proprio questa unione come dice Lisa di mente e di corpo di quello che penso farlo passare attraverso le mani se no ristagnava sempre comunque dentro di me e invece a me ha fatto bene ad esempio portare fuori creare questo circolo appunto questo cerchio che facesse uscire anche quello quello che avevo detto ecco quindi questo penso che sia in parole diciamo molto ecco anche ristrette ma anche per ragioni di tempo sennò vi ritengo anche io un'ora e faccio un'altra offertina diciamo così quello che darò che voglio darvi nel bonus ecco bellissimo grazie Chiara è stato molto bello quello che hai detto infatti io non ho volutamente messo nessuna parola sulla creatività su quello che appunto è il potere anche di radicamento appunto legato alla creatività proprio perché non volevo anticipare niente quello che fa Chiara lo potete spostare su miliardi di attività ma il concetto è quello cioè io mi sono quando ho visto il suo profilo ho detto no non è possibile come i percorsi con l'uncinetto percorsi di crescita personale ma che vuol dire cioè sono rimasta anch'io un attimino basita perché non riuscivo a capire il nesso no poi ho capito poi parlando con lei ho capito perfettamente e c'era tantissimo quando lei parlava diceva cavolo ma questo è radicamento puro cioè è proprio quella pratica che ti focalizza cioè ti insegna a focalizzarti su qualcosa che tu scegli quindi non a caso cioè non si sta parlando di sartoria perché appunto devi fare quella cosa per forza si parla di il mio tempo il mio spazio quindi il mio confine che è un altro tema importante del radicamento che si sviluppa il confine con il radicamento un confine sano permeabile equilibrato ma comunque un confine dove all'interno creo qualcosa questa cosa è come dice Chiara l'uncinetto i ferri la cucina lo yoga che ne so la pittura la creta qualsiasi cosa che riesca a farci muovere il corpo e a far collaborare anche la nostra mente ci aiuta a radicarci cioè a dire ok ci sono e vi accorgerete che quando create in modo radicato a parte il fatto che secondo me vi arrivano 30.000 idee e questa è una cosa che mi succede anche a me quando lavoro col pirografo mentre sto facendo una cosa me ne segno subito un'altra perché mi viene in mente cavolo questa la faccio dopo quindi è tutto un prendere appunti e robe varie ma vi accorgerete proprio che la mente si svuota e non perché come nella meditazione o come appunto in quella di cui si parlava prima quell'evasione la mente ti porta diciamo a evadere dalla realtà ma perché tu sei nella realtà ma sei nel tuo spazio protetto e la mente non può niente non ha più potere non ha più il potere di dirti ah c'è le bollette da pagare domani devi andare lì in quel posto bruttissimo e dopo domani devi incontrare quella persona ok ma io adesso sto facendo questa cosa e questa questa attività radicata è una delle cose secondo me maggiormente sananti per il nostro essere è quel tappabuchi che dice ok adesso c'è questo momento di guarigione cioè per me la creatività in generale è proprio il momento di guarigione e si si lega cioè inevitabilmente radicamento quando chiaramente è fatta in questo modo ok quindi non si parla vi ripeto di mettere la propria creatività per un lavoro in batteria cioè devo fare questa cosa perché devo guadagnare devo fare devo fare no è il nostro momento ok e Chiara ci aiuterà a fare questa cosa che la trovo veramente geniale bellissima poi ovviamente dato che abbiamo deciso di scambiarci contributi nei corsi quindi nel corso di radicamento oltre al suo bonus troverete anche il mio quello che io darò a lei per il suo corso quindi avrete diciamo due assaggi comunque di anche nel suo corso che poi andatela a cercare anche su Instagram fa un sacco di dirette e potete seguirla l'unica cosa che mi stava rivenendo in mente no che ma perché hai fatto proprio tanti punti diciamo in comune ecco che ho trovato in comune con anche quello che è stato per me diciamo l'esperienza che mi ha portato l'uncinetto mi ha colpito quando hai detto aspetta che me lo sono anche segnato la capacità ma c'è maggior focus e capacità di affrontare le sfide perché effettivamente anche con l'uncinetto come detto che sei nel presente quindi il maggior focus viene allenato e anche la capacità di affrontare le sfide perché ragazzi anche per fare questo che ho dietro le mie spalle l'ho disfatto tre volte però tante volte appunto non cioè parto con un progetto dico ok voglio che viene così poi nel farlo no allora lo dissi allora lo rifai e un po' in alcuni sensi alcune volte si può fare anche nella vita reale magari ho un'aspettativa però non viene proprio come volevo io allora la mente incomincio a cercare tutte quelle soluzioni e allora io in questo modo ho sviluppato il mio pensiero trovo una soluzione a un problema e non un problema a una soluzione era solo questo ecco perché mi ha colpito molto quando tu hai spiegato all'inizio eh sì sì la cosa del problem solving no quindi avere piuttosto che entrare nel panico che appunto poi ne approfondiremo nel corso ma quello che viene definito il demone diciamo di questa diciamo del nostro corpo del radicamento fondamentalmente è la paura perché è detto ai lavori si parla proprio di primo chakra e quindi di zona di collegamento con la terra quella parte proprio legata ai bisogni primitivi essenziali di sopravvivenza quello che ci sradica è la paura e la paura è quella quell'emozione che ci blocca anche sotto certi punti di vista ci anche a livello di mente se ci pensate no provate un attimo a pensare cosa accade se io ho paura la prima cosa che mi accade è che il mio corpo diventa pieno di energia cioè è perché la nostra risposta fisiologica cioè noi abbiamo bisogno di energia nel corpo per scappare di base quindi abbiamo ancora quel meccanismo atavico di scappa cioè pericolo scappa muoviti oppure ci sono quegli animali che si frizzano che si fingono morti ma perché sono due meccanismi fisici cioè non c'è la mente lì che dice aspetta adesso è scogito questa è una cosa che viene dopo prima c'è la reazione fisica proprio pratica materiale del nostro corpo di reagire a quell'esperienza il radicamento dal momento in cui noi quell'energia nel corpo ce l'abbiamo già perdiamo quella parte di reazione istintiva cioè quella cosa che ci arriva boom la paura assoluta siamo già presenti quindi iniziamo già a riconoscere prima le emozioni che arrivano soprattutto appunto l'emozione della paura che è proprio legata al nostro primo chakra alla sopravvivenza perché è l'emozione che più di tutte ci spaventa in un certo senso è un po' simono ma insomma avete capito cosa intendo perché è proprio quella emozione che ci toglie anche la facoltà mentale quindi pensate a quanto è collegato anche la paura con il corpo con il radicamento e sta a noi scegliere come agire se agire in modo radicato quindi agire oppure se reagire e quindi fare entrare la paura che però ci indebolisce a livello energetico fondamentalmente poi ci sono dei casi in cui la paura arriva ed è necessaria ma nel momento in cui noi attiviamo il radicamento facciamo cioè prendiamo energia da sotto l'energia sale nutre tutti i nostri centri e va poi anche a nutrire la nostra mente quindi si attiva quella capacità di risolvere il problema che non si risolve più con fuggi scappa o fingiti morto ma con qualcosa di più elaborato come appunto una fase successiva alla paura ecco diciamo così quindi si attivano tutte queste tutte queste risposte e vi ringrazio per essere qui per esserci state fino alla fine e ci sentiamo prossimamente e vi lascio poi tutto nella chat così ritrovate poi tutto quanto grazie grazie a tutti veramente vi abbraccio grazie a te ciao buonanotte grazie ciao 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 grazie grazie